IPO Initial Public Offering, ossia offerta pubblica iniziale di titoli azionari. In un'ottica di investimento oppure in un'ottica speculativa, a mio modo di vedere, è sempre importante avere una diversificazione. Trattando solo di esclusivamente criptovalute nel mio canale, questo potrebbe trarti in inganno e farti pensare che i miei investimenti sono solo di esclusivamente in criptovalute. Beh, amico mio, mi dispiace deluderti, ma non è così. Una parte del mio portafoglio è anche strumenti finanziari tradizionali. Ma per mantenere anche il lato fortemente speculativo, ci sono diversi strumenti. Uno di questi è la IPO, per fartele in breve una sorta di ICO sulle criptovalute. Solitamente partecipare alle IPO è riservato ai grandi investitori. In questo video voglio farti scoprire una piattaforma la quale ci offre l'opportunità di poter partecipare a queste IPO anche con piccoli capitali. E se pensi si possa guadagnare poco, ti consiglio di vedere tutto questo video e poi alla fine, magari, lasciami un commento qua sotto e dimmi cosa ne pensi. Subito dopo la sigla, benvenuto o benvenuta nel canale del Marchese del Cripto dove si parla solo pane al pane e vino al vino. Tutto quello che vedrai in questo video non sono consigli finanziari, sono solo opinioni personali, richiedono sempre un tuo ulteriore approfondimento. Se non mi conosci, sono Stefano Gabenelli, sono un ex promotore finanziario, ex in quanto attualmente mi occupo di altro. Ad ogni modo mi è rimasta naturalmente la passione anche per la finanza tradizionale nella quale ci sono dei strumenti validissimi che possono portare del profitto in breve tempo. Come in tutti i strumenti speculativi, c'è una forte componente di rischio. Ma se sei abituato alle criptovalute, avrai sicuramente la pelle dura. Innanzitutto, che cos'è una IPO? È una Initial Public Offering, ossia è un'offerta pubblica iniziale di titoli azionari con la quale una società colloca tali titoli nel mercato borsistico per la prima volta, dando la possibilità agli investitori di acquistare questi titoli. Ossia quando una SPA decide di quotarsi in borsa, offre parte delle sue azioni ad un pubblico ristretto in fase iniziale. Talvolta avere una parte di queste azioni prima che vengano quotate in borsa può essere davvero profittevole. Come detto, queste IPO sono riservate a grandi investitori. Adesso andiamo a vedere la piattaforma Freedom24, la quale ci permette di partecipare a queste IPO, anche se siamo dei piccoli investitori. Vediamo anche quanto si può guadagnare e vediamo come funziona. Eccoci arrivati sulla piattaforma Freedom24. Innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è questa piattaforma. È una piattaforma aperta da diverso tempo. È una piattaforma che ha tutti i requisiti di affidabilità e sicurezza. È stata anche approvata dalla SEC. Inoltre questa azienda è anche quotata sul Nasdaq. La stessa Freedom24 ha due sedi. La prima si trova in Germania, la seconda si trova a Cipro. La Freedom Finance Europe LTD ha una capitalizzazione di 3.8 miliardi di dollari. Oltre a questo ha anche una licenza europea ed ha uno score B di credito a lungo termine. Oltre ad avere il sito internet ha anche l'app quindi è possibile operare in modalità molto semplice. Prima di farti vedere le IPO è importante capire che questa è una piattaforma di trading. È possibile acquistare diversi strumenti su questa piattaforma. Ci sono tantissime borse. Borsa USA, europea, russa, l'Eurobond. C'è anche addirittura quella del Kazakhstan. Ci sono delle azioni, ci sono dei fondi, ci sono delle obbligazioni, ci sono degli ETF. Insomma ci sono una marea di strumenti finanziari diversi che anche i più esigenti potranno sicuramente trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. In questo video però non voglio farti vedere la parte di trading, voglio farti vedere la parte delle IPO. Per partecipare a queste IPO è necessario un primo passaggio, aprire il conto, grazie al quale hai i primi 30 giorni con zero fee sulla gran parte delle operazioni che andrai a fare. Quindi il primo passaggio è quello di registrarsi, di fare la verifica dei documenti, di rispondere ad alcune domande per l'anti-riciclaggio, effettuando un versamento su questa piattaforma di almeno 2.000 euro, dopodiché in 24-48 ore avrete il vostro conto attivo. Queste sono alcune delle aziende che stanno lanciando la propria IPO, vediamo Basis Technology, Home Smart, Turo, e fra le IPO che ci dovrebbero essere nel 2022 non ancora schedulate ci sono quelle ad esempio di Starlink, quelle di Reddit, quelle ad esempio di TikTok. Quali volessimo partecipare ad una di queste IPO, dopo aver depositato i 2.000 dollari, entreremo all'interno della IPO nella quale siamo interessati. Qui ci dà la trascadenza massima nella quale è possibile effettuare la partecipazione a questa IPO, e qui c'è un breve repilogo di quello che l'azienda fa, alcuni numeri dell'azienda. Naturalmente sono dei dati che andrebbero approfonditi, quindi fai sempre le due opportune ricerche. In questo momento per questioni di privacy sto utilizzando un account di prova, quindi non ho il tasto per poter partecipare, ma quello che stessi utilizzando il mio account principale, qui ci sarebbe il tasto per poter partecipare direttamente a questa IPO. Come funziona la partecipazione ad una IPO? Semplicemente depositando quindi un quantitativo di denaro si avrà diritto ad avere un certo quantitativo di queste azioni. Cosa importante da capire è che versare questa cifra non ti darà diritto sicuramente ad avere quel quantitativo di azioni. Per fartela in breve, questa Freedom24 è come se fosse una sorta di raccoglitore raccoglitore di più soggetti, di fondi da parte di più soggetti e la stessa investe per conto nostro direttamente su queste IPO. Perché come ti ricordi all'inizio ho detto che queste IPO sono riservate solo e disclusivamente ai grandi investitori. Questa Freedom24 non fa altro che fare una sorta di gruppo di acquisto, quindi una volta che noi andiamo a dare i nostri fondi alla Freedom24, lei provvederà ad inviarli e partecipare direttamente alla IPO. C'è un quantitativo massimo di azioni che possono essere acquistate, quindi alla fine di questa IPO, in base al quantitativo di soldi che sono stati versati all'interno di questa piattaforma, la piattaforma stessa provvederà a distribuire in parti più o meno equi questo quantitativo di azioni. Se hai versato dei soldi in più rispetto alle azioni che ti sono state assegnate, la piattaforma stessa provvederà a restituirteli. Questa è la parte che ci spiega proprio come funziona. Quindi bisogna inviare l'ordine. Una volta acquistate queste azioni, arriveranno direttamente sul tuo conto, dovranno accreditare il primo giorno di negoziazione, e qui ci dice quello che ci siamo detti in precedenza, ossia che i dollari o gli euro versati per le azioni le quali non sono state acquistate, ti verranno restituiti. Vediamo adesso al terzo punto. Se le azioni che hai acquistato sono soggette a blocco, potrai vendere dopo la scadenza del periodo di lock-up. Sicuramente se hai particolare a delle SEO o a delle pre-sale nel settore delle criptovalute, saprai benissimo che al momento del listing non è solitamente possibile vendere tutto il 100%. E anche in questo caso funziona così. C'è un periodo di blocco nel quale non potrai vendere le azioni. Solitamente per le IPO è un periodo variabile che varia dai 3 ai 6 mesi. Su questo sito ho visto che la maggior parte delle IPO hanno questo periodo di blocco di soli 3 mesi. Al termine di questi 3 mesi, con le tue azioni, potrai farci quello che meglio credi. Puoi venderle tutte piuttosto che puoi eventualmente tenerle. Questo sito offre anche una funzione avanzata che è la possibilità di fare un contratto di vendita a termine qualora tu ti voglia cautelare. In pratica in un qualsiasi momento, prima che ti vengano rilasciate le tue azioni, puoi aprire un contratto di vendita a termine il quale al costo di un 10 o un 15% del prezzo delle azioni in quel determinato momento ti offre l'opportunità di stipulare questo contratto e quindi avere garantita la vendita di queste azioni in quel determinato prezzo. Questo è naturalmente buono quando tu pensi che le azioni possono scendere dal momento che vengono quotate in borsa rispetto a quando le tue azioni ti vengono rilasciate. Capisco che alcune cose possono essere complicate soprattutto per i meno esperti ma ad ogni modo questo è una garanzia in più puoi tranquillamente saltarla se non hai necessità. Partecipare alle IPO è davvero davvero semplice si fa con pochi click ma sicuramente adesso ti starei chiedendo quanto è possibile guadagnare con queste IPO beh, lo andiamo a vedere subito. Su quanto si può guadagnare ci viene incontro il sito la media di questo sito delle IPO al quale ha partecipato questo Freedom24 è di circa il 60% di profitto al termine del periodo di low cap. Questo naturalmente non significa che per forza andrai a guadagnare c'è anche la possibilità di perdere ma qualora tu avessi partecipato a tutte le IPO di questo sito staresti in profitto del 60% circa. E un 60% nel mercato azionario in soli tre mesi ti assicuro che non è poco assolutamente. Quindi cerchiamo di capire come è composto questo 59% come vediamo qualcuna si trova al di sotto del 59% qualcuna ha addirittura perso qualcuna ha guadagnato poco qualcuna è andata pari qualcuna naturalmente di più questa è sicuramente una media se vediamo ad esempio questa chiuso con un più 231% è una cifra astronomica insomma la quale difficilmente si vede in soli tre mesi nel settore azionario fai chiaramente le tue opportune ricerche vedi se ti conviene eventualmente partecipare a una non partecipare per niente piuttosto che partecipare a tutte e tentare di raggiungere quella media che è semplicemente una media non è detto che anche il futuro verrà rispettata questa naturalmente è una scelta che devi fare te sono approfondimenti che devi fare tu con ogni singola azienda altro aspetto carino di questa piattaforma è avere anche un conto di deposito il cosiddetto conto D che ti viene aperto in automatico quando tu effettui la registrazione se vuoi utilizzare quest'altro conto che lo trovi all'interno della piattaforma puoi direttamente versare ed avere un tasso di interesse annuo del 3% questi interessi ti verranno pagati giornalmente valuta attentamente se vuoi utilizzarlo piuttosto che utilizzare come conto nel quale puoi depositare gli eventuali profitti avuti su questa piattaforma tanto passare da un conto all'altro è in modo molto semplice ci vogliono solo due click nella sezione aree di investimento ci sono anche le notizie ci sono anche degli approfondimenti su diverse aziende è una parte che ho trovato interessantissima e ti consiglio di darci un occhio sia per quanto riguarda notizie che riguardano la macroeconomia ma anche semplicemente per capire come funzionano le aziende che ci sono all'interno di questa piattaforma sotto la sezione news invece ci sono tutte le principali news che riguardano questa piattaforma la Freedom24 ho trovato questa piattaforma davvero interessante come detto in ottica di diversificazione partecipare alle IPO come abbiamo visto può essere profittevole così come può essere rischioso quindi fai sempre i tuoi opportuni calcoli fai sempre le tue ricerche e valuta sempre prima di effettuare qualsiasi tipologia di investimento le IPO a mio modo di vedere devono essere viste un po' come le ICO nel settore delle criptovalute non mi ci vado a giocare tutto è una parte altamente speculativa e può essere anche altamente rischiosa adesso però mi interessa anche la tua di opinione cosa ne pensi di questo sito cosa ne pensi delle IPO parteciperai o meno scrivilo qua sotto nei commenti lasciami un bel like a questo video se ti è piaciuto ed iscriviti qualora non sei registrato e noi ci vediamo al prossimo video del Marchese del Cripto promesso la prossima volta parlo solo di criptovalute ciao